Buon giovedì 19 novembre. Cerchiamo di coltivare la misericordia nella relazione con il prossimo, misericordia nei confronti dell'altro e di noi stessi, capaci di accogliere anche l'errore, senza condannare nessuno alla vergogna. Prendiamoci questa disponibilità, a coltivare la misericordia che ci mette di fronte all'altro, nelle nostre irriducibili diversità, che chiedono soltanto di essere accolte e comprese nella dimensione dell'amore, non nel giudizio. Amare non significa mai giudicare, ma accogliere la diversità, anche quando quella diversità è intrisa di errori, nostri e degli altri. Facciamoci dunque prossimo della infinita misericordia con la quale Dio ci accoglie ogni giorno. Buona giornata a tutti.